Con l'accensione dell'albero di Piazza Annunziata prende il via il Natale a Giuliano. Ieri l'iniziativa seguita poi dallo spettacolo del coro gospel. Il centro storico della città, dove per l'occasione era stata istituita l'isola pedonale, era animato da varie iniziative tra animazione per i più piccoli, mercatini dislocati tra Piazza Annunziata e Piazza Matteotti. Nasce questo momento di ritrovo dei cittadini in una bellissima città che mano a mano sta ritrovando il suo spirito e la sua vera identità. Un impegno notevole, abbiamo investito 90.000 euro più IVA per tutte le luminarie della città di Giuliana e poi abbiamo questo con fondi comunali, poi a breve faremo la gara per gli eventi natalizi e anche primaverile ed estivi perché con i fondi di città metropolitana pensiamo di spalmare gli eventi da dicembre fino a giugno del 2025 per ridare soprattutto nel 2025 con rassegna teatrale e rassegna musicale una rivitalizzazione del tessuto della nostra città.